Fortuna, in questo paese, non è più degli artisti, non è delle indosi, non c'è di discorsi, chi vado a votare se grandezza ce n'è, non si riesce a vedere, così hai voglia cercando 3.000 canali, se assumi e applauditi, che sono digitale, tu non sai, aumentare la differenazione, per vedere di grande corinale. 19 luglio 1992 Grazie a tutti